In galleria i commercianti pagano dei vigilantes per ridurre il numero di furti, borseggi, come valuta questa iniziativa? Può essere un contributo o questa giustizia privata? La valuta in maniera laica, poi dipende cosa faranno, rimane il fatto che oggi in contatto il prefetto è chiaro che il tema della sicurezza c'è ed è chiaro che ci stiamo lavorando ed è chiaro che quello che i cittadini vogliono vedere è più gente in giro che pensi alla sicurezza quindi ognuno fa la sua parte su questo tema in galleria non so giudicare a priori, vediamo un po' se funziona però insomma diciamo che ci può anche stare. Grazie